Fa molto male perdere così, perdere in questo modo, al di là dei punti che ovviamente mancano e rimancheranno in classifica, ma ovviamente adesso mi vengono in mente tutti i sentimenti di dispiacere anche con fronte dei nostri tifosi della società che aspettavano una vittoria in grandi aspettative, in questo senso, però abbiamo perso per soffrendo, abbiamo sofferto il campo, abbiamo lottato, abbiamo trovato di fronte a una partita tattica in cui la nostra supremazia e il lavoro che avevamo fatto in settimana per alleggerire il nostro campo offensivo si era visto perché contro un uomo all'inizio stavamo andando veramente molto molto bene, ora il parziale iniziale non me lo ricordo, però insomma mi sembrava che la squadra sia con il flusso della transizione che con i chiocchi in etacampo fossimo ampiamente dentro il match. Poi ovviamente sono cominciate le letture, sono cominciate le cose un po' più complesse e li siamo andati in affanno. In affanno per me vuol dire che non abbiamo preso quei punti che a mio avviso con la produzione di gioco che hanno fatto all'inizio, soprattutto nei primi venti minuti, insomma si poteva mettere in banca diciamo. Poi la partita è vissuta appunto per questi motivi in grande equilibrio, si vede insomma anche dai punteggi, dei quarti e rimane il grande ramare, insomma chiudo, chiudo anche se sono sicuro che la domanda prima o poi arriverà, quindi anticipo più tempo e poi magari vi rispondo se ne avrete voglia di approfondire, sono chiaro che nel primo tempo l'energia che loro hanno messo in quelle cose che ovviamente potevano fare la differenza in termini di possessi giocati, mi riferisco ai ribalsi, ribalsi offensivi soprattutto che abbiamo concesso, è una voce che probabilmente è inciso nel risultato finale e in quel momento che dicevo appunto non ci ha consentito di strappare un po' con la partita.